E' appena terminata la prima giornata di campionato di Serie B che ha visto scontrarsi l'FC Bergamo calcetto contro l'Axi Aurora. E' qua con noi Andrea Ravasio, autore tra l'altro oggi di una rete che stiamo vedendo. A lui chiediamo un commento sulla partita. Innanzitutto buongiorno, bella partita, siamo partiti col piede giusto, questo era l'importante. Sono contento del risultato, della prestazione dei miei compagni e di tutta la squadra. Penso che abbiamo pienamente meritato la vittoria oggi. Un buonissimo inizio quindi, le prospettive per questo Bergamo calcetto quali sono? Io sono sempre uno che sta con i piedi per terra. Il nostro obiettivo è la salvezza come quello dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo raggiunto i play-out. Speriamo di sudare un po' di meno quest'anno, però vedo che i presupposti per fare un buon campionato si sono. Poi vedremo cosa arriva. Con voi oggi il nuovo acquisto, Alberti, tra l'altro autore di Tre Reti. Come vedi questo nuovo acquisto nella squadra? Ma è un ragazzo disponibilissimo. Si è inserito perfettamente. D'altra parte lo conoscevamo già un po' tutti per vari tornei che abbiamo fatto, magari estivi, insieme. Per cui sono contento per lui perché è quello che è arrivato nuovo, si è inserito subito benissimo e penso che farà molto bene in questa squadra. Ok, grazie Andrea.